Uomini e donne, Christian Forti e Valentina Pesaresi sono in crisi? Ecco la verità confessata da entrambi. E adesso in questo articolo vi parliamo di Christian Forti e Valentina Pesaresi. Infatti da un po' al di tempo non si vedono più insieme, ma soprattutto non compaiono più insieme sui profili social come Instagram, che come sapete benissimo è un chiarissimo indizio che qualche cosa non sta funzionando. Ovviamente i due si sono scelti a Uomini e Donne di Maria De Filippi e oggettivamente sembrava all'inizio che fossero anche una bellissima coppia, insomma davano la forte sensazione di stare bene insieme, ma adesso come stanno veramente le cose fra di loro? A svelare il tutto ci hanno pensato Christian e Valentina in questo messaggio congiunto dove di fatto rassicurano i tantissimi fans di stare ancora insieme e di essere felici. Christian Forti e Valentina Pesaresi rassicurano i fans. Ciao ragazzi, come state? Noi finalmente siamo tornati insieme. Non ci siamo visti per circa 15 giorni. E, malgrado tutti i messaggi che ci sono arrivati in direct dove ci chiedevano na, ma siete in crisi, non state più insieme. Ragazzi, la risposta è no. Assolutamente no. È stata semplicemente una vacanza separata, con i rispettivi amici. Non ci vediamo niente di male, anzi è una cosa sanissima. Quindi nonostante le malelingue, delle cattiverie che ci sono arrivate, o delle persone con poca solidarietà, sia maschile che femminile, noi abbiamo superato tutto. E ora siamo pronti per la nostra vacanza ma prima faremo un'altra tappa che vedrete a breve.